Il rapporto degli italiani con il covid tra infodemia e necessità di una gestione meglio organizzata della pandemia. Un tema di cui si è occupata oggi la trasmissione 1 mattina ad intervenire da Polla sul Rai 1 il dottor Pierdomenico Di Benedetto, medico internista in qualità di operatore sanitario e ex paziente affetto da covid. In studio i conduttori Monica Giandotti e Marco Frittella, in collegamento da remoto anche il giornalista Beppe Severnini. Il dottor Di Benedetto, oltre a raccontare la sua esperienza durante il ricovero a Luigi Curto di Polla, ha parlato di medicina del territorio insistendo molto sulla necessità di potenziarla. La malattia spiegato ti dà due sensazioni, un grande senso di solitudine, ti trovi da solo e dall'altra parte ti manca il contatto con i familiari e la gratitudine per i colleghi che riescono a darti speranza. E proprio a proposito degli operatori sanitari, ha detto il medico vanno per tempo formati e dotati degli strumenti necessari ad affrontare l'emergenza in modo che non restino alla merced di una pandemia che almeno inizialmente non conoscevamo. Vanno informati con una linea unica dettata da un organismo unico e che usa un linguaggio unico. Non va bene regionalizzare e marginalizzare la sanità. Da operatore sanitario in prima linea molto insistito sulla necessità di potenziare la medicina sul territorio, anche per lasciare gli ospedali liberi di occuparsi dei casi clinici importanti, che si tratti di positivi al coronavirus o di malati affetti da altre patologie, oggi purtroppo trascurate. Le pandemie, ha detto il dottor Di Benedetto, si gestiscono e vincono sul territorio. Non bisogna far arrivare le persone in ospedale, quindi occorre preparare task force vere con assunzioni vere per un team territoriale. Si doveva partire il 31 gennaio, quando è stato proclamato lo stato di emergenza, per far sì che le persone fossero curate dentro casa. Ora, in questa seconda fase, bisogna lavorare molto per evitare la corsa agli ospedali e fare in modo che i casi clinici meno importanti possano essere gestiti fuori dai nosocomi.